Buongiorno, sono Nara Pistolesi, sono referente per l'orientamento dell'Istituto Carducci di Volterra. Il nostro istituto comprende l'Istituto Statale d'Arte e gli indirizzi dell'Icei Classico, Scientifico e Sociopsicopedagogico. Sono qui a presentarvi l'Istituto Statale d'Arte, che ha una lunga tradizione ed è da sempre inserito nel contesto culturale volterrano. L'Istituto infatti ha origine nel 1791, fu pensato per riqualificare la lavorazione artigianale dell'alabastro. Col tempo è stato sviluppato e ampliato notevolmente, proprio perché potesse rispondere alle nuove esigenze artistiche e culturali della città e del territorio. Furono aggiunti i lavoratori di legno e di metalli e poi, con il progetto Michelangelo, gli indirizzi Architettura e Arredo, Arte e Restauro dell'Alabastro e Disegno Industriale. Il nostro istituto mira allo sviluppo di una manualità colta, coniugando fortemente la progettualità, quindi la progettazione e il saper fare. Per questo si basa sullo sviluppo della creatività e sulla sperimentazione di esperienze, di materiali diversi, proprio attuata questa sperimentazione nei laboratori, che sono la vera ricchezza proprio del nostro istituto. L'istituto fa oggi parte, come dicevo prima, dell'istituto Carducci e in questo periodo a Volterra si sta creando un polo di studi che comprende tutti gli istituti volterrani. Per questo, questo polo è stato sostenuto dalla Fondazione e dalla Casa del Risparmio di Volterra e dagli enti locali. Questo polo ci permette, a partire da quest'anno, di rimborsare parzialmente le spese di viaggio, dato che la nostra zona è una zona abbastanza particolare perché ha difficoltà anche nelle comunicazioni, ed anche dare il prestito parziale dei libri di testo agli studenti che frequentano il biennio, questo a partire dall'anno 2009-2010. Nei giorni 12 e 13 dicembre sarà aperto a Volterra un salone dell'orientamento, in cui anche l'istituto d'arte presenterà le sue attività, fra l'altro i progetti importanti dell'istituto d'arte sono la grafica computerizzata, il restauro dell'alabastro in collaborazione con la sovrintendenza, lo scambio di esperienze con l'Accademia delle Arti di Carrara e la partecipazione al progetto dell'Associazione Artex, appunto, provinciale e regionale. Dicevo, il Salone dell'Orientamento sarà aperto a Volterra nel 12-13 dicembre prossimi, in quell'occasione anche le scuole saranno visitabili e il Salone sarà nei locali del Teatro Perzio Flacco, che è un pochino un emblema della cultura e dell'arte di Volterra. Grazie a tutti.